Il responsabile economico della Lega Nord in collegamento da Milano, Claudio Borghi, a cui chiediamo abbiamo visto come i mercati guardino la politica e queste prossime elezioni con un filo di sospetto ma la politica guarda i mercati per decidere se andare o meno elezioni oppure che per esempio legge elettorale fare? Ma la politica dovrebbe guardare i cittadini, non dovrebbe guardare i mercati Spesso i cittadini investono i mercati Sì, i cittadini investono i mercati ma soprattutto la politica dovrebbe essere in grado di discernere quando ci sono delle bugie e quando invece ci sono delle questioni significative Le bugie sono che lo spread per esempio dipenda dai mercati Lo spread dipende dalla Banca Centrale Europea Se domani la Banca Centrale Europea dice che non garantisce i nostri titoli Tu puoi avere al governo anche Roosevelt, anche Gandhi o quello che vuoi E quello sarebbe il caso di uno spread eccezionalmente alto Ma queste piccole variazioni sono le cose dal mercato Quindi dato che il punto è questo Noi dobbiamo porci un problema di democrazia È normale che ci sia un organismo non eletto da nessuno che detiene il potere assoluto su uno Stato Vale a dire è normale che domani, tanto per dirne una, se la Banca Centrale Europea c'è Weidman E questo si sveglia male alla mattina può mettere in ginocchio l'Italia Noi possiamo sederci una qualche volta anche con quelli del PD o similari a ragionare su questa situazione Cioè lo spread è una costruzione assurda, ce l'abbiamo solo noi Ci sono le elezioni in questo momento che sono anche in Inghilterra Qualcuno sta parlando forse di spread dei guilt Dopo la votazione sulla Brexit Si è parlato di spread sui titoli di Stato inglesi No, perché la Banca Centrale inglese ha comprato tutto quello che c'era da fare E garantisce i suoi titoli E domani, tra parentesi, tutti quelli che ha comprato se li potrebbe anche annullare La Gran Bretagna marca il proprio debito pubblico netto degli acquisti della Banca Centrale Quindi, se noi volessimo cancellare 220 miliardi di debito pubblico italiano Possiamo farlo domani Tutti i titoli che sono stati comprati dalla BCE con le operazioni di quantitative easing Se domani venissero cancellati non succederebbe nulla Non c'è nessuna conseguenza Avremmo debito in meno Tirare una riga così facilmente non è così facile Ma ci torniamo Perché no, è come una cambiale che uno si è riacquistato Se io mi riacquisto una cambiale e poi se la straccio cosa succede? Eh sì, allora So che lei sa che è semplice ma fino a un certo punto Ma non abbiamo il tempo adesso per entrarci addentro Borghi, anzi ci risolva prima una piccola questione Voi siete ancora un partito anti-euro Perché oggi abbiamo letto Salvini intervistato sul Sole 24 Ore E la faccenda anti-euro era del tutto bypassata Ma no, ma avete letto la stessa intervista che ho letto io L'abbiamo letto la stessa Ma dove dice che il primo provvedimento è quello di far diventare Banca d'Italia Istituto di emissione e prestatore di ultima istanza Cosa vuol dire secondo lei? Lei dice alla fine un altro modo per dire la stessa cosa Ebbè vorrei far notare che sulla sovranità monetaria C'è stata un'esplicita mozione, discussione Come dovrebbe succedere nei partiti democratici Quindi più o meno noi Quindi lei ci conferma che la Lega ha ancora dell'idea Che bisognerebbe uscire dall'euro e tornare ad un altro tipo di moneta Forse la lira, poi la si può chiamare come si vuole È sempre questa la posizione? Assolutamente sì Assolutamente sì Prego E come giustifica il fatto che questa cosa, questa posizione Che è vostra ma in parte anche di altri partiti in questo momento in Italia Preoccupi i mercati? Ma io non penso che preoccupi Veramente, vi giuro, non credo che preoccupi i mercati questa cosa Così come abbiamo visto che non so Dopo la vittoria di Macron non è che Parigi è partito Abbiamo visto dei successoni sulla borsa francese Macron che ha una posizione molto poe Non abbiamo visto dopo il voto sulla Brexit Tanto per dirne una Dei disastri nella borsa inglese In realtà io penso che sarebbe una cosa Che al di là delle speculazioni momentanee Perché come giustamente ha detto Longo Ci può essere qualcuno che ci vuole guadagnare Vale a dire, se ci sono dei momenti in cui l'euro potesse smantellarsi E prima o poi succederà Quindi mettetevelo, diciamo così, in un angolo della testa Prima o poi succede Qualcuno che ci voglia guadagnare Qualcuno da questa situazione È evidente che un po' di movimento sui mercati lo fa Quindi lei dice che è speculazione Ma certo che è speculazione Posso fare una domanda a Borghi? Sì, infatti volevo venire da te, Moria Vorrei forse fargli una domanda Supponiamo che lei abbia mille euro Spero prendi di più Come mille euro in una banca italiana Denominata attualmente in euro Sapendo che l'Italia potrebbe uscire dall'euro Preferirebbe tenerli nella banca italiana Questi mille euro Portare in una banca estera, tedesca, francesa, americana In una valuta forte Sapendo che non si svalutano E quindi Ecco, il rischio principale dell'uscita dall'euro È appunto la fuga di capitali Non solo degli speculatori Ma di tutti Perché avere una moneta che si svaluta È meglio portarla in valuta forte Tant'è vero che quando l'Italia svalutava C'era forte fuga verso la Svizzera per esempio Borghi velocemente Non so perché Ma c'è questa idea primitiva Di scappare con la valigia dei soldi Io non mi fido dell'euro Lo sapete Quindi da uno che non si fida dell'euro In questo momento i miei risparmi Sono tutti in fondi di investimento diversificati Internazionali Specialmente Giappone I suoi O qualcosa del genere Però ci sono quelli che si fidano attualmente dell'euro Consiglio a tutti di valutare Se fossimo già tutti nella sua situazione Ovviamente Se uno veramente ha paura Per un qualsiasi motivo di queste cose Può tranquillamente I titoli di Stato al momento sono ai valori massimi Le borse sono tutti ai valori massimi Tutto è massimo Non capisco perché Perché c'è una bolla speciale mondiale di qualsiasi prezzo Se uno non si fida Ma che faccia quello che vuole Chi l'ha fatto nel 2011 E ha preso una mazzata Perché chi ha venduto i titoli di Stato nel 2011 Prima del whatever it takes Purtroppo li ha venduti ai minimi Con lo spread a 500 E poi dopo Le cose non gli sono andate bene Quindi i mercati sono così Se uno rischia Rischia Poi uno prende le sue conseguenze Volevo mettere Diciamo anche se L'importante è non far perdere soldi alla gente Ecco come invece Quello che sta succedendo sulle banche La sua posizione è chiara Volevo